Lo sport è uno strumento importante di benessere e di aggregazione non solo per i giovani ma anche per gli adulti. Adulti che possono anche avere delle problematiche fisiche o di salute mentale e sin dal 2007 il Libro Bianco dello Sport dell'Unione Europea ha prolungato lo sport come strumento di benessere e di aggregazione per cercare di migliorare non solo la salute fisica ma anche la salute mentale. Stare insieme, smuovere le varie relazioni che con lo sport vengono a creare. Questo fa sì che tutte le persone si possano permettere di avere uno stile di vita adeguato per le proprie possibilità. Non c'è uno sport solo per professionisti ma lo sport e l'attività motoria di per sé porta ad un benessere e a una socialità che permette di vivere le relazioni della vita e della quotidianità in maniera adeguata. A questo a fine di maggio ci sarà una manifestazione che si chiama Panna in Rete il 24 e 25 maggio che ha questo obiettivo proprio di stare insieme, di promuovere lo sport a livello di salute e di benessere per tutti, adulti, persone che hanno problematiche di salute psichica e anche per i giovani. Quindi questo connubio adulto-giovane si ritrovano insieme a condividere degli spazi e di essere propositivi e attivi nella quotidianità. Grazie per la visione!